Peter Polverini, il 24enne San Giustinese accusato della morte di Katia Dello Marino verso il processo con rito abbreviato. Lunedì prossimo infatti i legali del giovane presenteranno in procura ad Arezzo la richiesta di rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. Peter Polverini si trova in carcere dallo scorso settembre e secondo l'accusa il giovane avrebbe ucciso a martellate la 41enne biturgenze ritrovata senza vita e con la testa fracassata la mattina del 12 luglio scorso sul greto del torrente Afra alle porte di San Sepolcro. Dopo che gli avvocati del giovane avranno presentato la richiesta aspetterà il PM Giulia Maggiore che sostiene l'accusa accettare la perizia di parte sul 24enne. Con il rito abbreviato il giovane non sarà giudicato dalla corte di Assise ma dal gruppo ed in caso di condanna la pena è ridotta di un terzo. La scelta difensiva dei legali di Peter Polverini inoltre potrebbe variare la data della prima udienza che era stata fissata per il 3 marzo.